Hello Sweetness, io sono Tedda e questo è The ADC Cosa pensi dell'autunno? Credo che l'autunno sia la stagione preferita mia in assoluto è stupenda come stagione perchè non fa caldo, ma si sta bene e non fa col freddo e glaciale invernale che devi solamente stare a casa tutto al più buone Pioggia o nuvole? Beh, direi che amo entrambe nel senso, mixate un po' il clima londinese un po' di nuvole, un po' di pioggia quella giornata un po' grigiatra adoro ed è perfetta per stare a casa a vedere le serie tv Qual è la tua bevanda preferita giornale? La mia bevanda giornale preferita è composta da latte di soia naturalmente caldo un decaffeinato e cannella mischio tutto e bevo e la tua cannella preferita? La mia bevanda preferita non ne ho una in particolare ma sono le Yankee Candle in generale Giubbotto o maglia Versailles? Maglia Versailles Quali sono i trend che adori per l'autunno? Diciamo che quest'anno il mio trend preferito è la maglia Oversailles il jeans boyfriend adoro queste due cose serie tv preferite del momento? Le mie serie tv preferite del momento American Horror Story e The Vampire Diaries Sharpa o Scaldacollo? Sharpa Cosa ti piace fare di più in autunno? Quello che amo fare di più in autunno è stare sotto al piumone con lo scaldino un bel cuscino morbido e guardarmi tante serie tv una gonna a tulle bella ampia a vita alta con una t-shirt come Carrie un bel cuscino